eccoci qua eccoci qua cari amici ciao Leonardo buongiorno buongiorno a tutti benvenuti 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 bene così ragazzi stasera è una notte importante la nostra notte finalmente la Fiorentina potrebbe alzare un trofeo ce l'auguriamo con tutto il cuore di vedere di vedere la Fiorentina vincere anche perché ho la sensazione carissimi amici che se non sarà stasera poi ci vorrà di tempo stasera è un'occasione da non perdere bisognerebbe forse stasera bisogna portare questa coppa della Conference League a Firenze in tutti i modi ragazzi la coppa va portata a Firenze lo scherziamo allora ti dico subito la lunga disamina e alla fine io mi sono molto rasserenato siamo meglio di loro meglio di loro dovremmo combinare disastri su disastri però è una partita secca bisogna stare attenti però siamo meglio di loro questo su questa ragione lei detto questo allora oggi c'è un'ampia rassegna stampa addirittura tutti i quotidiani nazionali si occupano della fiorentina quindi caro leonardo preparati siamo in prima pagina sulla gazzetta dello sport insomma c'è di tutto di più davvero beh sai beh sai vista la vista davvero davvero no oggi con le connessioni ragazzi credibile questo paese fa veramente è una cosa guarda pazzesca va bene allora vedi innanzitutto c'è c'è il Corriere dello Sport Stadio che titola la Fiorentina cerca la rivincita italiano serve scusate il Corriere della Sera la Fiorentina cerca la rivincita italiano serve il fuoco dentro Corriere della Sera nazionale ragazzi la finale di conference con l'Olimpia costo per cancellare la sconfitta di un anno fa quella che vedete nella foto è una è la piazza dove c'è la fan zone per i tifosi della Fiorentina ad Atene ero collegato questa mattina al refresh con Dario Baldi proprio da lì alle otto e mezzo greche era tutto sbarrato no non l'hanno cardato però alle otto e mezzo greche era tutto chiuso tutto sbarrato una cosa no tutto chiuso no tutto sbagliato tutto chiuso va bene vediamo la form vediamo la formazione no ma no la fan zone era chiusa no la città mi ha detto che c'è polizia ma ma non ci sono problemi la fan zone era tutta chiusa questa mattina doveva essere aperta era chiusa la città che doveva essere chiusa e aperta va bene credibile buonaventura buonaventura a dragora il centrocampo della Fiorentina andiamo avanti lasciamo stare lasciamo stare i greci cosa ce ne frega adesso dei greci parliamo della formazione buonaventura artur mandragora il Corriere della Sera va bene buonaventura artur mandragora il Corriere della Sera e poi ricordati bene questa questa d'accordo sarà questa sarà questa però ricordatelo bene andiamo a Corriere lo sport stadio i titoli incredibili furore furore italiano vuole fare la storia la storia prenditi la conferenza va bene questo giusto ma il titolo è anche giusto eh il tecnico carica la Fiorentina pronti a giocare con il fuoco dentro sono anche emozione commisso forza vinciamo per Gio Barone sì per carità però vinciamo anche per i tanti ragazzi giovani che non hanno mai visto vincere la Fiorentina questa roba dove l'avrebbe a chi avrebbe ditta alla squadra ieri alla squadra ieri c'è scritto un attimo ci arriviamo si aspetti eccolo qua commisso un successo per Barone eccolo qua il presidente ha parlato alla squadra ha trasmesso la fiducia necessaria in una finale questo spiega il ma c'è una foto di Corriere dello Sport Stadio no non c'è la foto di commisso qui non l'hanno messa questo Alessandro Mita non l'ha messa ma sarà davvero ad Atene ma dai non cominciare a fare il terrapiattista ti prego Atene sogno viola è il titolo del quotidiano Corriere dello Sport Stadio una vittoria cambierebbe le prospettive di un club destinato a una rivoluzione terza finale in due anni seconda consecutiva in conference ora la Fiorentina prenota un'impresa che manca dal 60 al 61 va bene quindi questo il Corriere dello Sport Stadio poi le parole ovviamente di italiano Fiorentina lottiamo con furore spiega il tecnico nel taglio basso Mendilibar che dice non c'è solo il cabi l'allenatore l'anno scorso ha battuto a Roma e non c'è solo il cabi c'è anche quello là a centrocampo che è un problema quello lì a centrocampo è un problema e poi chi altro però però il cabi ti serve parecchio no c'hanno Carmo dietro i Borra e ci hanno i Borra e però è un cagnone molto lento ma Dragola lo annullerà e poi c'hanno il cabi che fa gol e fa anche tutto tanto altro ecco il cabi è l'esempio di uno che oltre a fare lotta movimento comitate fa anche gol perché i centravanti fanno questo intanto il Corriere dello Sport Stadio racconta Franchi e Maxi Schermi che brividi e in gran segreto è già pronta la festa con tanto di attesa di squadra e coppa questa la riveliamo ovviamente in caso di vittoria altrimenti è inutile questa sera al fisco finale vediamo tutti i dettagli ovviamente la squadra domani la festa sarà domani sera domani sera però detto questo mi riveliamo tutto domani non ha senso adesso per carità gufarsela no poi biraghi ora voglio vendetta il capitano non dimentica praga e poi buonaventura sogno un gol vabbè tutte frasi di circostanza andiamo a leggerci il Corriere Fiorentino invece all'interno la notte della rivincita che abbiamo scelto come copertina di questo video vale più di una coppa chiusura del cerchio e nuovi orizzonti sei d'accordo con Ernesto Poesio che vale più di una coppa la vittoria di stasera cioè lui sostiene che praticamente vincendo la Fiorentina stasera aprirebbe un nuovo cioè avrebbe davanti a sé nuovi orizzonti partecipare all'Europa League no non avrebbe no 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 la vittoria di stasera varrebbe la coppa il trofeo la grande gioia da domani da domani si deve ripartire sostanzialmente da zero qualunque sia l'esito di stasera allora i duelli chiave secondo i duelli chiave secondo il Corriere Fiorentino quale cane Leo? Se ti va a bagliare? No non va a bagliare nessuno i duelli chiave secondo il Corriere Fiorentino eh sì è vero c'è un cane qualche baglia sono incredibili allontananza pazzesca Solakis Terracciano eh i duelli chiave eh Rodinel Quame eh Fortunis Buonaventura e Rezzos Belotti questi sarebbero due duelli chiave non hanno nemmeno citato uno dei giocatori nostri però vabbè proprio sbagliato tutto i duelli chiave sono Quartel Capi esatto esatto duelli chiave sono quelli andiamo avanti poi eh veramente le diciamo il colore il colore da eh da Atene eh tra feste e agenti i due volti della grande maglia bianca sì con la maglia bianca sì la maglia della finale la maglia bianca sì sì quella che hai tu adesso porta male quella che hai tu adesso al centro c'è una scritta non lo so non me lo ricordo ehm poi dice gli avversari il Pireo lo stemma olimpico gli operai la polisportiva che sa come vincere però eh è praticamente alla prima finale europea di calcio questo racconta racconta un ottimo Francesco benvenuti oggi sul Corriere Fiorentino poi ovviamente c'è il il diciamo così il il la marcord storica vedete quante pagine oggi sui giornali lascia raddoppia il trionfo e la grande beffa quella volta delle due finali nel sessantuno e nel sessantadue la Fiorentina eh che battì i Rangers di Lesgov e poi perse dall'Atletico Madrid che oggi ci sta tutta roba sì certo e poi grande Chiarugi io un cavallo pazzo no sono il re di coppe punto tutto su un Nico eh non simulavo ero leggero e veloce avrei voluto il bar Chiarugi avrebbe voluto il bar avrebbe fatto comodo Luciano Chiarugi che è protagonista anche sul quotidiano il Tirreno giusto il tempo di arrivarci ragazzi eccolo qua cioè Chiarugi ha parlato al Corriere lo sport e al Tirreno sì no al Corriere Fiorentino al Tirreno eh Fiorentina Fiorentina lascia di trascinare Chiarugi punta sul pubblico e Nico l'ex sala anticipa la finale di conference vince le a Firenze ti resta addosso spiega eh è veramente raro e chi lo fa resta immortale quindi in Grecia è arrivato il presidente commisso scrive l'ottima Francesca Bandirelli sul Tirreno Leonardo ecco andiamo avanti sempre con i titoli invece che riguardano in questo caso la gazzetta dello sport che in prima pagina titola addirittura prendi Fiorentina prenditi l'Europa con Nico Gonzales corretto il titolo della gazzetta dello sport dai certo corretta anche la prima pagina una volta l'anno ci può stare mettiamo la seconda domani allora se la Fiorentina perde no se vince domani è in prima pagina mettiamo la seconda mettiamo la seconda vai Fiorentina prendi la coppa come l'Atalanta l'Italia è con te dice il la gazzetta dello sport si ripercorrono le cinque finali la fiorentina attenzione però la formazione che guardala bene Leo dove buonaventura Arthur Beltran questo il centrocampo secondo la gazzetta dello sport è in controtendenza rispetto agli altri questo è interessante della gazzetta dello sport che punta su questo aspetto io tenderei a più a dar ragione agli altri bene perfetto intanto c'è questa battuta di italiano su Elcabi però era carina Elcabi come fermarlo ho portato alcuni lucchetti questa è una buona però però come fai a lucchettarlo mister lui va 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 anticipato non può farlo girare è semplice allora intanto e soprattutto non bisogna non bisogna addormentarsi come fa spesso Milenkovic guarda chi ha intervistato chi ha intervistato Ilaria Masini Lugno Gomez Lugno Gomez tirano fuori tutti eh li ritirano fuori tutti che dice due cose che punta su Gonzales che è il talento giusto per decidere la sfida ma dice guardalo qua serve attenzione al portoghese Carmo difensore forte e aggressivo vedi Lugno Gomez se ne intende questo testimonia la pochezza della rosa della freddina perché su tre giornali tre intervistati tutti puntano sul giocatore Nico che è sostanzialmente il manifesto dell'evanescenza posso dirti una cosa invece io stasera appunto su Mandragora io punto su Mandragora stasera perché anche l'ultima intervista italiano lo ha sostanzialmente accusato di aver sbagliato il gol che poteva valere la vittoria stasera appunto su Mandragora appunto su Mandragora io punto su Mandragora chi è con me ragazzi scrivete nei commenti io stasera appunto su Mandragora punto forte su Mandragora stasera perché stasera Mandragora a gli capita un'occasione che non capita a tutti io invece andrò completamente contro tendenza e stasera la decide Belotti no incredibile sarebbe incredibile incredibile con questo dai adito a Mazzoni di rivalersi su di te per tutta la stagione questo Mazzoni non deve aprire bocca come non aprire bocca invece sì io fosse Mazzoni no ma non solo c'è il tuo il tuo meme del gallo e fiocco va cancellato perché tutti sai come ci bersagliano no si bersagliano se ha una cosa stasera Belotti il suo voto resta quattro eh cioè ha fatto tre gol però no infatti no ha fatto gli stessi gol di Elcabi se gli togli il tre davanti a Elcabi Elcabi ne ha fatti trentadue Firenze chiama Atene l'esito dei tifosi e l'attesa in città per la notte decisiva la nazione racconta dei tifosi viola Atene fa vedere ovviamente la zona della fanzone e poi racconta non sa quel che è successo a noi ieri sera quando abbiamo allertato la Farnesina per una possibile sfinturazione alla Grecia capito si è creata una lisi diplomatica che credibile ieri sera siamo ieri sera con questo Gianni guarda con questo Gianni ieri sera ma gli ho anche chiamato un audio e gli ho detto ma tu sei folle gli ho detto ma ragazzo mio una cosa mi racconti ho avvertito il sottosegretario va bene eh allora in realtà eh l'ondata di diecimila con un occhio alla sicurezza ci sono non so cinquanta ma ha detto Dario Baldi sono trentanove tifosi bloccati all'aeroporto a Milano che hanno avuto problemi con i voli stando ovviamente a quello che riporta anche la nazione poi andiamo anche all'interno delle pagine sportive della nazione tutta Firenze sogna ora vinciamola sì cari amici il titolo è corretto direi titolo molto corretto del quotidiano nazionale la formazione con Mandragora in campo e questo sarà diciamo il dubbio che ci accompagnerà fino all'ultimo eh diciamo questa sera sempre di dubbio si può parlare e poi eh gli undici leoni di Atene Beltran out Jack in avanti nel mezzo c'è Mandragora vedi proprio sulla eh sulla formazione ci sono altri due milioni come noi di fare come noi noi ce l'ha detto i mazzoni si pensa che sta là fuori Beltran Andrea noi noi crediamo noi crediamo altresì che Beltran sia un giocatore che potrebbe essere utile in fase di partite in corso così come Zola che il meglio di sera è sempre data a partite in corso e quindi da questo punto di vista credo che le scelte siano giuste così poi sai un allenatore prepara tanti piani gara e vediamo quale si intreggerà nel modo migliore. Eccoci Leo andiamo anche all'interno del quotidiano la Repubblica con ovviamente i titoli che riguardano anche eh la diciamo così la Repubblica perché c'è un articolo sul nazionale e poi abbiamo anche degli articoli sul locale di Firenze giusto per leggerli insieme devo ricaricare le st'estate abbiamo pazienza però ci siamo ogni tanto ragazzi le connessioni fanno sempre ridere una cosa pazienza salta sempre tutto salta sempre tutto andiamo andiamo alla Repubblica Nazionale andiamo alla Repubblica Nazionale di apertura è la notte viola Leo su Repubblica Nazionale eh la notte viola la notte viola Fiorentina missione conference eh ad Atene contro l'Olimpia Cossi italiano carica identità e furore c'è Zizi Brisas intervistato te lo ricordi? Furore piace eh certo certo furore piace anche anche lui anche lui ha fatto meglio di Belotti venti gare e quattro gol anche lui ha fatto meglio di Belotti Zizi Brisas vinse l'europeo con la Grecia e dice è il cabi al cabi riesce tutto ma il loro punto debole è la difesa è la difesa quindi bisogna lì la difesa è il loro punto debole se ti aspettano se decidano di star bassi di non vederti a pressare effettivamente difensivamente loro sono abbastanza sono abbastanza fragili è vera ragione Zizi Zizi e quindi questo è da capire che tipo di atteggiamento avrà l'Olimpia Cossi sarà coraggioso si aspetterà perché nella fase con la Stonville in cui ha aspettato ha preso venti tiri in porta e quindi ce lo diceva ieri sera l'ottimo Luca Pasini e quindi è veramente una partita a scacchi fra gli allenatori la partita ci possono essere più partite all'interno della stessa partita tanto Andrea da Borsiccane ci sei Andrea? la connessione credo ai Gigi no no ci siamo una speranza lontana una speranza lontana ci siamo per modo di dire Andrea speriamo che stasera nella nostra serata magia e faremo lì da Bobo in piazza Ferrucci la situazione sia molto migliore l'anno scorso andò tutto molto bene devo dire e ci divertimo soprattutto eccoci qua speriamo che lo sia anche bene no dicevo stasera ci abbiamo stasera ci abbiamo la wifi la wifi dedicata stasera quindi non ci sono problemi va bene questa è la Zizi Frisas che diceva appunto il loro punto debole è la difesa quindi questo per quanto riguarda il punto debole della diciamo della dell'Olimpia Cossi vediamo se ce la facciamo anche andare velocemente alla Repubblica di Firenze con i titoli da Fiorentina Fiorentina assalto finale il titolo della Repubblica di Firenze con l'editoriale di Paolo Condò un trofeo per unire passato e futuro questo scrive l'ottimo Paolo Condò su Repubblica di Firenze poi ovviamente tante tanti temi si parla anche del racconto della finale di Coppa UEFA quella notte stregata contro la Juventus da cancellare con un colpo di genio mamma mia ragazzi ricordarsi questo incubo qua sì però questo è un articolo più perché questa è la conference della Coppa UEFA bravo la Coppa UEFA vediamo di farla approssimando ragazzi vediamo di farla approssimando sarebbe un'ottima cosa sarebbe un'ottima cosa allora ragazzi due appuntamenti oggi in giornata alle diciotto siamo alla radio sulle di radio con le bombe delle sei e poi vi aspettiamo tutti live in Piazza Ferrucci dalle 20 e 55 partiamo con la live della finale grande live della finalissima che vedremo assieme per chi ovviamente non potrà essere con noi siamo tanto contenti perché questa sera oltre a noi due ci sono altre 130 persone a guardare la finale con noi da poco quindi grande grande successo della community di viola fan allora grazie a tutti grazie Leo ci troviamo stasera ciao Leo ciao ragazzi ciao a tutti ciao ciao